Cari altoitesine, cari altoitesini, il fine settimana è alle porte. È un fine settimana diverso. Molti di noi avrebbero voglia di uscire, di incontrare altre persone. Adesso dobbiamo rinunciare a queste libertà. Dobbiamo evitare il contatto con altre persone. Noi dobbiamo fare tutto il possibile per fermare il virus. E questo vuol dire che dobbiamo rinunciare anche di andare sui prati della Talvera a fare ciò che di solito si fa il fine settimana. Questo è anche un modo di essere solidali con chi lavora negli ospedali e cure le persone già ammalate. Io sono fiducioso che noi siamo una comunità forte dove ciascuno di noi si assume una responsabilità che ha anche nei confronti degli altri. Facciamolo questo sforzo, tutti assieme. Mi fido di voi.